La gente poi se lo dimentica che Salvini è il segretario della Lega Nord per l'indipendenza della Padania e oggi il segretario della Lega Nord per l'indipendenza della Padania è il primo partito in Abruzzo e forse lo sarà anche in Sardegna e i 5 Stelle tacciano su questo, cioè l'alleanza con la Lega a livello nazionale gli impedisce di fare emergere le contraddizioni del partito di Salvini, di cui non parla nessuno, perché io credo che nessuno ha ancora capito che Salvini è il segretario della Lega Nord per l'indipendenza della Padania, la Lega non esiste, la Lega è un simbolo elettorale, Salvini è il segretario di due partiti, uno si chiama Lega Nord che è il partito storico e l'altro si chiama la Lega per Salvini Premier che è il partito con cui lui sta raccogliendo iscritti e voti nel mezzogiorno, tutto questo che io credo sia noto a Di Maio di Battista non viene utilizzato in campagna elettorale perché appunto sono insieme a livello nazionale, quindi Salvini che è abilissimo riesce ancora a espandersi al sud a spesa di 5 Stelle come vedremo nei dati, senza che 5 Stelle dicano nulla, bisogna distinguere tra vincere, cioè ottenere la nomina di un proprio esponente come governatore, quindi la maggioranza assoluta, questo ha un significato di vincere in Abbotta, i 5 Stelle se non cambieranno la strategia, la strategia solitaria che li ha caratterizzati finora, non riusciano a vincere da nessuna parte, perché vincere vuol dire arrivare primi, è molto difficile che una lista unica arrivi prima, anche perché nelle elezioni locali, sia regionali, quando tu hai una coalizione, tu sei solo e c'hai davanti due coalizioni, in questo caso la coalizione centrodestra, che ha 5 o 6 liste, ogni lista c'è un sacco di candidati che si vanno a cercare le preferenze, non c'è il voto disgiunto, quindi adesso sono delle tecnicali, tutto questo fa sì che è molto difficile per i 5 Stelle poter vincere, ma c'è un'altra definizione di vittoria, in Abruzzo non solo hanno perso e si aspettavano di perdere, io credo, almeno quelli che conoscono i dati un po' meglio, ma il vero insuccesso in Abruzzo è che hanno preso il 20% dei voti contro il 27% della Lega, questo è il vero insuccesso, la vera debacle dei 5 Stelle, sono passati dal 40 al 20, ma soprattutto hanno visto la Lega superarli nelle elezioni regionali, lasciamo perdere il confronto 40-20, perché uno può dire quelle erano politiche e queste sono regionali, ma dentro lo stesso contenitore regionali loro hanno il 20 e la Lega al 27, in una regione del sud che è il loro territorio, non il territorio della Lega, quindi questo è ancora più grave. C'è un altro elemento che se vuole, magari è solo psicologico, però queste sono le prime elezioni, dopo tanti mesi di sondaggi, i sondaggi sono stati univoci, da giugno in poi hanno avuto sempre la stessa tendenza, ma i 5 Stelle quando gli si faceva notare avete delle difficoltà, dice no, ma noi nei sondaggi siamo sempre sottostimati, adesso non si parla più i sondaggi, loro sono di fronte a un problema, cioè questi sono votiveri, adesso il professore ha ragione, diciamo, se non si alleano è difficile che vintano. Certo, bisognerà capire insomma anche, leggendo quelle parole di Di Maio, che intende affrontare problemi, definisce di fondo, probabilmente insomma un cambiamento anche nella strategia del Movimento 5 Stelle, chissà, forse ci sarà, guardando anche alle prossime... Cambiamento anche di toni, di linea, di vocabolario, se non alleati non ne trovano, oppure si vuole una legge elettorale doppio turma. O una legge elettorale diversa. Allora, professore, ci siamo, ci mostra le grafiche con i flussi di voto, perché in particolare ci si sofferma su due città. Sì, siamo riusciti a farli, perché non tutti i dati purtroppo sono disponibili, però i comuni dell'Acqua e della Pescara sono stati bravi, hanno messo a disposizione i dati, questi non sono dati di sondaggio. Allora, eccoli, se vuole ce li può... Sì, ora li facciamo però prima, volevo spiegare, questi sono dati veri, sono i voti, calcolati con un modello statistico, calcolati a livello di sezione, quindi non abbiamo preso tutte le sezioni dell'Aquila... Può andare anche lì, se vuole, così ce li spiega meglio. Queste sono tutte le sezioni dell'Aquila e tutte le sezioni elettorali, sia delle politiche, queste sono le politiche, questi sono i dati delle politiche, questi dati, che non so se si vedono, sono dati calcolati sugli elettori, non sui voti validi, perché così teniamo conto dell'astensionismo. Queste sono le politiche, tutte le sezioni dell'Aquila, queste sono le regionali, tutte le sezioni dell'Aquila. E qui si vedono proprio flussi, graficamente, prendiamo la Lega. Professor, è solo una cortesia, si può mettere sulla destra così, è più a favore di Camera, grazie. Dunque, si vedono qui gli spostamenti dei voti. Prendiamo la Lega verde e qui si vede, gli elettori della Lega, questi sono, no, prendiamo il Movimento 5 Stelle, che è più interessante, il Movimento 5 Stelle, questo è il Movimento 5 Stelle, elezioni politiche, e qui si vede dove sono finiti i voti del Movimento 5 Stelle. Qui c'è la Lega, vedete che questa fascia gialla sono elettori che avevano votato il Movimento 5 Stelle alle politiche l'anno scorso e che oggi hanno votato Lega. All'Aquila si cerca, esatto, e quindi lo spessore della banda, della fascia fa vedere l'entità dello spostamento e questo fa vedere che oggi, fatti 100 gli elettori che hanno votato Lega all'Aquila, il 50% degli elettori della Lega vengono dal Movimento 5 Stelle all'Aquila, il 50%, quindi Pescara è un po' meno, ma siamo sempre in quella direzione lì. Poi faccio notare che un'altra fetta di elettori del Movimento 5 Stelle è andata verso la stensione, quindi il Movimento 5 Stelle ha perso tanto verso la Lega e tanto verso la stensione, ma la cosa interessante è questa, in una regione del Sud, il Movimento 5 Stelle abbia perso tanto verso la Lega Nord. Ma non mi sorprende affatto, vi devo dire, perché bastava dare un'occhiata ai sondaggi per capire che cosa pensassero gli elettori del Movimento 5 Stelle, ma non sul tema più generale del governo, della politica, su alcuni temi che sono stati i cavalli di battaglia. Se il 66% degli elettori del Movimento 5 Stelle ritiene che Salvini sul tema degli immigrati, che è stata una questione che in questi otto mesi da quando c'è il governo ha tenuto banco, Salvini e Badisco avesse ragione, condivide la posizione di Salvini e pensa che non si debba concedere l'autorizzazione a procedere, sono vari sondaggi fatti da varie società di rilevazione, vuol dire che c'è un'identità tra gli elettori del Movimento 5 Stelle e gli elettori della Lega, c'è un'identità, c'è una concordanza di pensiero su alcuni argomenti. Se gli elettori del Movimento 5 Stelle non vedono male l'introduzione di quota 100, che è stato il cavallo di battaglia pure di Salvini, è evidente che c'è una contiguità tra quell'elettorato e confesso che mi sorprende un po' invece il professor Dalimonte quando parla della questione della Lega e dell'indipendenza della Padania, a parte che è un argomento che Salvini ha messo da parte da molto tempo, non parla più di indipendenza della Padania, non ha nessuna intenzione di fare l'indipendenza della Padania, ma per un motivo semplice, che vuole governare l'Italia, non vuole governare la Padania. Voglio dire al direttore, so bene che Salvini non vuole l'indipendenza della Padania, che è diventato un nazionalista, ma il punto che volevo sollevare è che Salvini è ancora oggi il segretario di un partito che si chiama Lega Nord per l'indipendenza della Padania, l'articolo 1 dello statuto del partito di Salvini, sarà un formalismo, ma in questo casino in cui ci troviamo volevo sollevare questa contraddizione, cioè che un segretario di un partito che si chiama Lega Nord per l'indipendenza della Padania sta diventando il primo partito del Sud, questo è il punto. Io so bene che lui non vuole l'indipendenza della Padania, direttore, ma resta il segretario di quel partito lì e finché lui non cambierà lo statuto del partito che si chiama Lega Nord, io continuerò a chiamarlo Lega Nord, segretario della Lega Nord per l'indipendenza della Padania, poi tra l'altro direttore, si sa meglio di me, che ha fondato un altro partito, il cui statuto è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale nel dicembre 2017, che si chiama Lega per Salvini Premi, che è lo strumento che lui sta utilizzando per radicarsi al Sud, quindi oggi lui è il segretario di due partiti, Lega Nord e Lega per Salvini Premi. Il partito che si chiama Lega, quello che appare sul simbolo come Lega, non esiste formalmente. Questo è il punto, i fatti, poi ho detto, ognuno può l'interpretare come vuole, questi sono i fatti. Ah beh, sì, assolutamente sì. Allora, prima di rifare il giro dei commenti, vogliamo completare anche il commento dei dati che ce l'ha portato? Mi perdoni, professore, la faccio rialzare, ma insomma è estremamente interessante. Chiedo anche alla regia di rimettere sullo skywall la grafica, così il professore ce lo può ancora commentare. Questo è Pescara, professore? Questo è Pescara. Abbiamo visto l'Aquila prima e qui la fotografia è più o meno la stessa, un po' meno negativa per i 5 Stelle perché qui il flusso verso la Lega e si vede qui dallo spessore della fascia gialla è più piccolo rispetto all'Aquila. C'è da dire che l'Aquila il Movimento 5 Stelle ha preso il 9% dei voti, quindi era già molto basso e quindi il flusso lì si vede chiaramente. Qui invece a Pescara è andato meglio come voti e il deflusso verso la Lega è stato minore, ma anche qui si vede come una fetta importante dell'attuale elettorato leghista Pescara viene del Movimento 5 Stelle, quindi la tendenza è quella lì. E poi di nuovo la stensione, quindi le perdite del Movimento 5 Stelle sono state, è chiarissimo, sono andate verso la maggioranza, verso la Lega e verso il non voto. Questa è la fotografia. Insomma, Luigi Di Maio, grazie professore, venga sedersi a un problema che si chiama Matteo Salvini. Il problema è capire come tutto questo si riversa sui grandi temi, sui dossier che sono aperti all'interno dell'esecutivo, Federico. In verità lo vediamo da mesi come si riversa, si riversa in una polemica continua. Adesso io sono molto curioso di vedere come finisce questa guerra degli emendamenti sul decretone che contiene i due provvedimenti simbolo, cioè il reddio cittadinanza e quota 100. Ci sono già 1600 emendamenti al reddio cittadinanza, tra i quali tutti i giornali segnalano quelli molto insidiosi della Lega, che pongono una serie di paletti ulteriori per arrivare al reddito. Sì, restringono la platea e cambiano un po' i requisiti per l'accesso alla misura. Insomma, con cose complicate si chiede la produzione di documenti, diciamo per esempio per i cittadini stranieri. È una vicenda che somiglia molto a quella di Lodi, ve la ricordate? Quella degli asili, documenti che molti non saranno in grado di produrre. Quindi la misura sembra pensata per restringere invece in questo caso la platea, escludendo per quanto possibile i cittadini estracomunitari. Insomma, vediamo se i 5 Stelle può essere persino che gradiscano una cosa di questo tipo che lascia più risorse per gli italiani. Il resto, come dire, è una guerra continua, cioè un tentativo di depotenziare... Ecco, però è tutto molto complicato. Però se volessimo in sintesi trovare quali sono i punti seri pericoli, seri pericoli per la tenuta dell'esecutivo. Io ti devo dire, insomma, magari sbaglio, ma io fino alle elezioni europee non vedo nessun pericolo per il governo. Mi pare molto complicato che dopo le europee, diciamo, questa coalizione, se non cambia profondamente, diciamo, il profilo, diciamo, abbia voglia, intenzione e anche la forza di preparare una manovra economica che a ottobre sarà un vero disastro, perché c'è l'economia ferma, probabilmente in recessione, aspettiamo i dati del primo trimestre 2019, ci sono 23 miliardi di clausole di salvaguardia IVA dai quali bisogna partire, quindi sarà una manovra molto complicata. Allora, considerando lo stato di tensione perenne tra le due forze politiche, io penso si possa anche prevedere che per la prima volta nella storia della Repubblica, cosa non è mai successa e non si capisce nemmeno bene perché si voti in autunno, si voti da settembre e ottobre. Io non credo che loro abbiano intenzione di caricarsi, diciamo, una manovra che sarà veramente molto complicata. E quindi la grande incognita al, diciamo, dopo voto europeo.